Grazie. Ho fatto un sogno, ero in una cuccia di 400 metri quadrati, sento bussare, un cane magrissimo mi dice osso, osso entrare? Un vescove mi colpisce con un conclave e io stramazzo il suono. Vorrei svegliarmi ma non ce la faccio. Sono dentro un Kral, un dopolavoro ferroviario, vedo tre anziani che stanno suonando la fisarmonica, anzi due, uno non suona. Mi avvicino a quello che non suona e gli chiede tu perché non suoni? Lui mi dice io non suono perché ho le chiavi. Vorrei svegliarmi ma non ce la faccio. C'è una scritta, isteria, provo a entrare per bere qualcosa. Appena sono dentro sento, ora, lo potiamo smettere qui, ci c'è il che torna, lo tettino della morte e basta! C'è un vecchio col pallino delle bocce e gli altri che lo inseguono perché dovrebbero giocare anche loro. Capisco la passione però. Tra l'altro si sta prendo un torneo di bocce molto complesso che si chiama Vedremo, si gioca di notte al buio pesto e solo la mattina con la luce si va a vedere il punteggio. Quindi se non c'è neanche il pallino è difficile. Vorrei svegliarmi ma non ce la faccio. Due anziani al tavolino stanno giocando a scatti. Re, regina, alfiere, cavallo, pedone. Scatto matto. Sono stanco, molto stanco. Nel sogno prendo la moto e faccio una curva che mi porta fuori. Così almeno passo la serata con qualcuno. solo che mi porta troppo fuori e cado sull'asfalto fresco un attimo prima dell'arrivo di una bettoniera guidata dal killer dei caduti sull'asfalto fresco. Nell'Ohio c'è la più grossa nevigata del secolo. Me ne frego, sono caduto a Lucchio. Solo che dell'Ohio è il commissario che deve restare il killer dei caduti sull'asfalto fresco. E non riesce a partire perché l'aeroporto è chiuso per neve e io sono lì davanti al killer. che mi dice, cosa facciamo? Lo aspettiamo, cominciamo? Dico, cominciamo. Lui mi dice, facciamo così. Io ti do due dadi, tu tiri, se fai più di dodici non ti uccido, se no, oh. Destino. Io dico, tiro a campare, ma non credo di riuscire. Lui, lui va via, va via. Mentre si allontana vedo che ha una scritta sulla schiena, fine colonna. Vorrei svegliarmi, non ce la faccio. Sento tre mendicanti, sento tre mendicanti, tre mendicanti. Quanti? Tre mendicanti. Cioè, dei poveri stonati. Tre mendicanti, tre mendicanti. Arriva l'ambulanza, li porta subito al centro grandi stonati e porta via, porta via. Anche a me che non l'avevo neanche cantato. E mi chiudo in un androne con un energumeno che canta tutto il giorno, 25 ore su 24, ha chiesto un'ora in più per le prove. Canta così, volare? Cantare, volare, cantare. È Mugugno, Mugugno. È lui. Io cerco di svegliarmi, ma non ce la faccio. È tardi. Mio padre nel sogno mi aveva detto, sento, a mezzanotte non torni a casa, ti do fuoco. Quindi non è il mio sogno. Prima il killer, poi mio padre. Sono le due, quindi un po' di paura ce l'ho. Vado a casa lo stesso, ho un'idea, mi lascio la porta di casa alle spalle e provo ad entrare alla rovescia. Infatti mio padre apre la porta e mi dice, dove stai andando? Dico, ma vai, ma vai, ma vai, ma vai. Ce l'ho fatta. Mia madre ride. Nel sogno mia madre ride. È strana mia madre. Nel sogno è mezza madre e mezza ussero. Non l'avevo mai notato. Divisa in due. È un cesto di vimini in braccio con dentro un sergente a sonagli che mi dice, te, 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 te. Ti hai fatto il militare. In fondo al corridoio vedo mio fratello che è diventato incartatore di serpenti. Incarta i serpenti. L'incarta. Già incantatore per un occidentale sarebbe complesso. Lui è diventato incartatore che con la sua manualità è da strazio. Gli ne scrivono di qua, gli ne scappano di là. Non ne tiene in mano uno. Tant'è che alla fine mi dice, senti, per un regalo te li posso dare così? Gli dico, guarda, guarda, io non li volevo neanche, prego di svegliarmi e basta. Nel sogno vado via, vado via, vado alla più grande raduno di tutti i pittori del mondo, vado alla più grande festa di tutti gli artisti del pianeta, vado al G8, 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 calza e pennello. Infatti io comincio a dipingere con quella calza e pennello e cade all'indietro perché dentro la calza ho ancora la gamba. Bisogna che trovi un sistema, così non può andare. Tutte le volte batto la testa. Sono a terra, ho paura, ho paura dell'arrivo della betoniera guidata dal killer. Invece vedo due rotine di un passeggino, sopra il passeggino vedo un bel bambino nel sogno. Il bambino è spinto da una tata, chiedo alla tata quanto tempo ha, lei mi dice due mesi. Poi mi giro e vedo una badante, Slava, che spinge una carrozzina con sopra un anziano malato. Le chiedo subito quanto tempo ha, lei mi dice ha due mesi di vita. Io capisco che il tempo è variabile. Infatti sulla badante piove, sulla tata splende il sole. La tata non è bella, è un tipo affascinante, ma un povero ulgare, il classico viso vacca e sapone, lei, lei, così. Nel sogno mi offre un ramaro marron, un ramaro marron. Mi dice, accetta questo ramaro, un ramaro marron. Vorrei svegliarmi, ma non ce la faccio. Allora mi offro una rosa marron, tutto marron. Mi offro una rosa marron, io non ci casco, mangio la foglia. Non lo dovevo fare, un incantesimo. Mi trasformo in eritreo di un anno e mezzo con i brufoli in tutù rosa. Nel sogno tutti ridono di me, il killer dei caduti sull'asfalto fresco. Ci sono gli anziani col bolbocino che l'hanno trovato finalmente. È arrivato anche il commissario dall'Ohio, dice guarda una nevicata. Dico, eh ma potevo morire per colpa tua. Ci sono tutti, solo uno cerca di consolarmi, gli altri no. Solo uno cerca di accarezzarmi, ma non ce la fa. È lo sfioraio, lo sfioraio è cambiato da quando ha questa piantagione di cactus, non è più lui. Ha anche una piantagione di raptus, queste piantine. Io ho paura, paura, paura. Per terra nel sogno vedo una viola mammola, l'unica che aspetta un figlio vicino. Un bacco da sera, elegantissimo, che non vuole riconoscere il figlio. Ho tanta paura, forse un incubo. Mi rivolgo al supereroe dei sogni, all'eroe volante, a quello onirico, eroe, come si chiama? Quello che sta sempre in casa, esce poco, sempre in pantofono. Chabatman! 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 Puoi aiutarmi? Si trascina, non fa niente, chabatman. È pigro. Vorrei svegliarmi ma non ce la faccio. Sento un rumore di copertoni, gomme, ruote. Vedo una macchina, familiare. È la mia. È guidata da un ustero, mezzo mamma, mezzo ustero. Gli dico subito, se vuoi l'altra metà, l'ho a casa. Ma lui, lui non è interessato, guida in retromarcia da Luca a Bari. La macchina è piena di pantofole in fiamme. Di fianco al posto di guida c'è una mummia e lui guida piano da Luca a Bari. Gli chiedo, perché guidi così piano? Lui mi dice, ho paura di sfasciarla! Giusto. Vorrei svegliarmi ma ormai mi rendo conto che non mi svegliorò forse mai più. Sono stranito. Nel sogno ero dimenticato la macchina attaccato dietro un carrello, un carrello con sopra un tarallo. 50 metri, piccolo, di più, 60-70 metri di tarallo sopra il carrello. In retromarcia da Luca a Bari. Il mezzo ustero, mezzo mamma arriva a Bari. Di notte sgancia il carrello, spinge il tarallo dentro la città e all'alba fugge gridando il tarallo di Troia! Vorrei svegliarmi, non potete capire quanto vorrei svegliarmi. Non esce nessuno dal tarallo. La bilancia segna le 50. È 15 d'agosto, nevica, la neve si accorge che è 15 d'agosto, privato carterra, prova a tornare su. Ma ormai, hai già fatto la discesa, ci dovevi pensare prima. Sono davanti a tre piramidi in Egitto, il sogno non lo fa capire. Prova a salire su una piramide già senza neve, eroico senza neve, con la neve impossibile. Noto cosa noto nel sogno, che sopra una delle piramidi, la più grande, c'è il passeggino. Con sopra il bambino. E una tata che lo picchia con una baguette dura di 15 giorni. Ma io mi sveglio. E penso. Proviamo a interpretare questo sogno. Proviamo a vedere nella simbologia onirica cosa mi significa un sogno così. Proviamo a vedere ambito per ambito. La macchina che va in retromarcia siamo noi che andiamo verso il nostro passato. Quindi la malinconia, il desiderio, i ricordi. Le pantofole in fiamme possono essere le nostre comodità, che sono svanite, non ce ne sono più. La mummia. Siamo noi che dovremmo urlare, ma non riusciamo nemmeno a parlare. Siamo chiusi dentro. La baguette dura di 15 giorni. Il bambino è buono come il pane. Quindi il rapporto tra bontà e durezza, per dire. La babysitter col cappello da d'Artagnan sullo skateboard significa The note è simbolo di distrazione. Perché in questo sogno qui non c'è. Cerchiamo di concentrarci su questo sogno e non far sogni a castello che questo è già complesso di suo. Quindi se facciamo dei sogni a cavallo, non ne veniamo più fuori. Il serpente, simbolo del male, male e paura, passe breve. Tra male e paura e passe breve. Io ne so qualcosa perché abito sotto casa di un nano. Il passe breve, la cadenza è quella lì. Sono 20 anni che sono lì. Il passe breve. E lui, lo riconosco, giorno e notte. Questo dice il sogno. Il sogno dice questo. Abiti sotto casa di un nano? Vedi che il sogno si pone questa domanda. E qual è il problema? E il serpente? Questo si chiede il sogno. Abiti sotto casa di un serpente nano? Ecco, questo è. Il serpente nano poi è un pochettino più corto. O solo più bassettino. Vedi che i sogni ti fanno capire cose che senza sogni non capiresti? Questo dice il sogno. Abiti sotto casa di un serpente nano? Allora sì. Suba fitta. Questo che ti dico io. Cosa stai lì a fare? Questo dice il sogno. Se c'era la babysitter, il skateboard ero anche più tranquillo forse. Magari mi portava da un'altra parte. Così ci vado. Il 15. Ecco, i numeri. I 15 numeri. I numeri nella simbologia onirica sono tutto. Nel calendario birmano della simbologia onirica per i birmani il 15 simboleggia il 3. Per i birmani il 15 è il 3. Quattro volte però. Quindi è 12. Poi lo raggiungono un 1, 3 volte. Sono un po' i birmani. Non è che puoi chiedergli. 3, 4 volte più 1, 1, 3 volte. Il calendario birmano. Il calendario azzecco dei numeri onirici. Per gli azzecchi il 15 è 7,5 più 5. Quindi ho rimediato. Sì, scolasticamente è la sufficienza, però fa sempre 12 e mezzo. Comunque io esco a luna, vieni a prendermi quando vuoi. Questo dice il sogno. Tu hai un figlio che esce a luna, 12 e mezzo a una, stai lì a perdere tempo, a cercare casa. Sotto il caso di un nano, stai lì dove sei. E se lo bocciano, 7,5 più 5. Eh no. L'ha bocciato perché è incondotto. Ha portato un serpente in classe. Vedi che alle volte. Questo dice il sogno. Che padre sei. Tra l'altro io poi so. Vorrei parlare con gli azzecchi e i birmani e dire ragazzi. Se non avete un'idea precisa della scansione del tempo, noi poi il calendario si aspettavano. Non è che calendario, calendario. Quando l'avete preciso, chiaro. Ce lo dite. Ma così si è terminato più uno, tre, cinque, quattro volte. Così è peggio. Così è peggio. I sufi. Per il calendario sufi, che erano molto più avanti di tutti gli altri popolari. Per i sufi i numeri non sono altro che delle lettere minuscole per i sufi. Per esempio la n minuscola è un tre in giù per i sufi. La w è un tre in panciolle per dire. Io ho una nostalgia del calendario birmano quando parlo dei sufi che la sento dentro la nostalgia. Facciamo l'esempio. Per i sufi l'otto, che si è steso, è il simbolo dell'infinito, in piedi per i sufi, se lo vediamo, l'otto. È graficamente composto da due e tre che si baciano. Se noi vediamo come è fatto un otto, sono due e tre che si baciano. Se uno li guarda bene, sono due e tre che si baciano. Quanti due e tre? Sono due e tre che si baciano. Quanti due e tre? Adesso io non li ho contatti. Io ho altre cose da fare. Devo cercare casa. Zambocciato mio figlio, vuoi che io sia preciso nel contare i tre che fa un otto dei soffi? Questo io ti chiedo. Sono due e tre, prendila com'è. Sono due e tre, sono sei. Sei sono due e tre. Così, ma precisamente. Ma due e tre è un numero generico. Un due e tre per le vie di Roma. Cosa fai per le vie di Roma? Cerco casa là. Adesso mio figlio ha trovato scuola. Sta bene lì, hai già i nuovi compagni. Questo dice il sogno. Non si sta bene anche cambiare città? Questo dice il sogno. Io so poi che i sufi, i birmani, si sono incontrati un giorno con gli azzecchi. Io avrei voluto esserci solo il giorno dell'appuntamento. Dice ragazzi, ragazzi quando ci vediamo, va bene a tutti il 15. Ci dico, non state neanche a partire. State tanto inutili che vi trovate, perché uno fa sette e mezzo, l'altro in giù, il tre. Comunque mio figlio l'ha ribocciato per la seconda volta. Questo dice il sogno. Le piramidi nel sogno, le piramidi sono il simbolo del tempo per gli egiziani. Gli egiziani sono più avanti degli altri popoli. Per un egiziano una piramide simboleggia cinque anni, poche storie. Due piramidi, un anno. Poi allora anche gli egiziani confineranno con la Birmania. Cinque anni. E nessuna piramide per loro simboleggia l'infinito. Se uno sogna nessuna piramide, la maggior parte della gente sogna nessuna piramide. È il simbolo dell'infinito per loro. Allora, tra l'altro, questo dice il sogno. Ma se non andavi a letto, non era meglio? Alla base, proprio. Alla base. Tra l'altro, mio fratello, dopo questo sogno, è morto, morso da un serpente. Quindi, mor sua vita mia. Quindi, vedi, il concetto del presagio, disagio, agio. Perché io sto bene. Il tema della morte, come in tutti i sogni, la morte è la prima parola che c'è in un sogno. Questo sogno dice questo. La morte non ti coglie di sorpresa se sei già gravemente malato. Perché se uno sta bene, la morte. Ma se uno è gravemente malato, dice, boh, dovrebbe essere qua. Momenti, non l'ho ancora... In quel sogno lì. Il sogno, invece, che vorrei fare io, questa sera, è un altro. Mi piacerebbe pensare che non è un terremoto emiliano, che non è un nostro terremoto, che non è la nostra gente. La prima volta che io ho sentito la scossa, ho pensato, siamo tutti sulla stessa terra. Io non riesco ad immaginare che sia la nostra terra. E quindi i terremoti, il Belice, l'Aquila, sono tutti sulla stessa terra. E credo che questa terra stia cercando di parlare. Credo che questa terra stia cercando di raccontare. Di non lasciare del fumo negli occhi. Credo che questa terra abbia dei diritti. È inutile accampare dei diritti se i doveri non amano campeggiare. Probabilmente bisogna cominciare a pensare qual è l'epicentro sismico interno di ognuno di noi. Bisognerebbe riuscire a pensare che c'è una scossa che serve a quelli che il terremoto non lo hanno avuto per capire il tema dell'abbandono, per capire il tema dell'aiuto, per capire il tema della solitudine, per capire il tema della mancanza, per capire il tema dell'attaccamento, per capire il tema della terra, per capire il tema delle radici. Questo lo dobbiamo fare prima che arrivi il terremoto. Lo dobbiamo fare soprattutto noi che momentaneamente non siamo stati colpiti dal terremoto. Questo deve avvenire. Il tempo non è più il tempo di prima. Simbolicamente questi orologi simboleggiano l'idea della fine del tempo di prima. È finito un prima. Comincia una nuova era. Comincia un periodo in cui devi aprire, ti si deve squarciare la coscienza, la testa, pensare che ci sono cose che devi fare. 50, 60, 100 anni prima perché non succedono 50, 60 anni dopo e nessuna terra italiana, l'Italia non esiste, l'Emilia Romagna non esiste, basta. È una questione di terra comune, è la stessa terra del Perù, è la stessa terra dell'Equador, è la stessa terra del Giappone. Non cambia niente. Ringrazio l'operosità degli emiliani, ringrazio la generosità degli emiliani, ma è la stessa operatività e generosità di un crollato aquilano. Non ci sono diverse dignità. Non ci sono diverse dignità. Quello è il tempo per tutti. Allora, il campanilismo cade, è importante un concetto mondiale, cosmico, è una narrazione, il terremoto narra gli errori, le consapevolezze nate, le non pensate e narra la sveglia. Quando noi ci svegliamo dal terremoto, tremiamo al sol pensare, il tema del sol pensare. Auguro a chiunque lo splendore di quel sol pensare. E ringrazio l'Arena del Sole e voi che avete dato soldi che servono anche, ma non solo, anche, anche Patrizio Roversi. Grazie. Il mio Mont Blanc preferito. Grazie a tutti.